fedez ossessionato dal fare denaro e consapevole che molti lo vedono in questo modo ma la realtà è un po diversa il rapper 34 n ne ha parlato recentemente nel podcast gurulandia sottolineando che il denaro non lo interessa a tutti i costi ovviamente i soldi gli piacciono ma deve farli con attività che lo divertano anche tutti pensano che io sia ossessionato dal denaro per fortuna no ha detto io sono ossessionato dal fare denaro divertendomi perché il vero lusso non è diventare ricchi ha poi sottolineato secondo il papà di leone sei anni e vittoria 3 molti ricchi sono in realtà infelici io conosco un sacco di gente ricca che non è felice il segreto essere ricchi e felici i soldi risolvono un problema non risolvono tutti i problemi quindi il mio scopo nella vita oltre a cercare di fare qualcosa di buono di lasciare un'impronta positiva in questo mondo è anche quella di riuscire a costruire delle cose dove però per arrivare all'obiettivo che può essere un exit può essere fare tanti soldi ma che per arrivarci devo divertirmi ha proseguito grazie a tutti 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 grazie a tutti